Il Festival di Pandora Il Trilemma Politico della Democrazia e la Prospettiva dell'Economia Civile. Certamente in questo titolo risuonano parole che sono molto familiari al mondo cooperativo. Io sono un giornalista, mi occupo molto spesso di cooperazione e sento direi un richiamo proprio identitario quando si parla di economia civile, quando si parla anche di contributo democratico all'economia e più in generale ai rapporti sociali da parte della cooperazione. Ed è per questo che abbiamo deciso insieme a Giacomo Bottostra, che ringrazio per la possibilità offerta, di aprire l'intervento del professor Zamagni con l'intervista a due rappresentanti del mondo cooperativo qui sul territorio, direi anzi principale rappresentante della cooperazione, quindi Daniele Ravaglia, presidente di Conf Cooperative Bologna, presidente altresì di Alleanza delle Cooperative Bologna, quindi di quell'organizzazione che racchiude in sé la rappresentanza di AGC, di Conf Cooperative e di Lega Coop, quindi un osservatorio ampio sul mondo cooperativo, ma direi di più un osservatorio ampio sul paradigma dell'economia civile e di cui ovviamente la cooperazione si sente più che mai attore. Allora, Daniele Ravaglia, partiamo proprio da qui, da questa parola, da economia civile, sappiamo che la tradizione della cooperazione va in questo senso, che c'è un rapporto molto identitario con questo termine e che fin dagli albori la cooperazione è stata concepita in chiave sociale, non meramente economica. Allora ti chiedo qual è il contributo che oggi dà la cooperazione all'implementazione nella società del paradigma dell'economia civile qui a Bologna? Grazie dell'invito intanto a questo importante evento, evento che peraltro si protrae per diversi giorni, quindi davvero una iniziativa che ha tutto il mio applauso e che fa ragionare, fa riflettere non soltanto noi ma tante persone che hanno caro questo tema. Intanto mi permetterei, rischiando un richiamo dal professor Zamani, di dire qual è la mia visione di economia sociale. E tanto per precisare, poi magari dopo mi scriverà se vuole, secondo me l'economia sociale è un sistema economico che fa riferimento a comportamenti molto chiari, molto definiti, di reciprocità, di gratuità e di fraternità. Ecco, se questa è la definizione che io ritengo per quanto mi riguarda di economia civile, io credo che la cooperazione a pieno titolo si inserisse in questo mondo. La cooperazione è nata per questo, la cooperazione è nata per fare riferimento ai bisogni delle persone, quindi nasse per rispondere ai bisogni. È una struttura che è fatta di persone che lavorano per le persone, non certamente per il capitale. Quindi quella definizione che ti andavo prima certamente ingloba tutta l'operatività delle cooperative. Mi piace anche ricordare che le cooperative in termini di presenza economica sono anche molto importanti. Noi viviamo in una città, in una regione dove la cooperazione è molto significativa da un punto di vista anche di occupazione e di fatturato anche. Un dato, mi permetto di darlo, l'Alleanza di Cooperativa Bologna, che era qui rappresento, comprende 500 imprese per 80 mila occupati. Quindi pensiamo che se facciamo un po' di conti statistici, quasi una famiglia su tre ha qualcuno che lavora in cooperativa. Questo è un dato molto importante che probabilmente non abbiamo tutti i giorni davanti a noi, non lo consideriamo in questa dimensione. Mentre invece io credo che la socialità anche di Bologna, città certamente all'avanguardia per i servizi sociali, è in questo caso sostenuta molto bene dal mondo cooperativo. Tutte le attività di servizio alla persona lo fanno le cooperative. Le cooperative sociali sono quelle che si occupano di educazione, di assistenza alle persone anziane, di assistenza ai disabili, di inclusione sociale. Quindi un'attività che secondo me è assolutamente coerente con la definizione che davo prima di economia civile. Ecco, passando al punto di vista dell'organizzazione, delle organizzazioni di cooperative, di alleanza delle cooperative, quali sono gli interventi, i punti che si ritengono prioritari oggi sul territorio, rubando un'espressione al professor Zamagni, per civilizzare il mercato? Oggi credo che la priorità che è sotto gli occhi di tutti è quella di mantenere coesione sociale in un momento nel quale l'economia sta devastando, io credo, prima di tutto le famiglie. anche per il lavoro che faccio, che credo sia noto, io sto verificando che si sta schiacciando sulla famiglia in questo momento tutta la difficoltà di mercato. Le imprese sono certamente difficoltà, noi chiediamo anche le cooperative, chiediamo di un forte supporto a queste, abbiamo anche avviato percorsi interni di supporto, non chiediamo soltanto alla regione, allo Stato di intervenire con interventi significativi, ma anche noi abbiamo fatto iniziative, dirò dopo. Ma quello che io credo sia oggi da tutelare è la famiglia, prima di tutto, perché su di essa si stanno scaricando gli incrementi dei tassi, l'incremento dei tassi sta a porta a una, per chi ha ovviamente dei mutui prima casa, ma sono molte le famiglie che ce l'hanno, a una incidenza molto inattesa del corso del mutuo. Questo si somma all'incremento dell'energia, delle materie prime, le imprese hanno più momenti di difesa in questo caso, penso all'aumento dei prezzi, lo scarico sul consumatore finale del prezzo della materia prima, perlomeno in parte, penso alla disoccupazione, alla possibilità di mettere in cassa di creazione dei dipendenti, penso alla moratoria sui debiti, quindi ci sono delle azioni che in qualche modo possono preservare l'impresa. La famiglia invece è quella che alla fine paga lo scotto di tutto. Non a caso, pochi giorni fa ad Assisi, il Presidente nazionale di Confuberti di Gardini ha fatto presente che in Italia, dall'indagine commissionata da Confu, ha rilevato che ci sono 3 milioni di famiglie in crisi, 3 milioni di famiglie che possono fare riferimento a 9 milioni di persone in Italia in crisi, a rischio di povertà. Ci sono 12 milioni di italiani pensionati che vivono con meno di 12 mila euro di pensione l'anno, cioè meno di 1000 euro al mese. Ecco, in questo caso io credo che la cooperazione, che ha uno degli obiettivi suoi, è proprio quello di preservare, di fare, di evitare che ci sia un incremento di differenza, oggi può fare molto, può fare molto perché la cooperazione non delocalizza, la cooperazione per quanto possibile non licenzia, la cooperazione resiste, l'ha dimostrato anche in tempi di pandemia che la resilienza delle cooperative è fortissima. Le risorse che abbiamo messo da parte, anche in termini finanziari, lo dico molto brutalmente se volete, oggi stanno andando in quella direzione. Le finanziamenti che le banche di credito cooperativo, quindi cooperative fanno a tasso zero, sono a tasso zero, non perché le banche, devo dire, rinunciano totalmente all'interesse, ma perché il fondo che abbiamo costituito in cooperative paga il 100% dell'interesse, quindi contribuisce a ridurre i costi. Abbiamo cooperative che fanno odito energetico, cooperative che vendono energia a prezzi più bassi sul mercato. Io sono molto convinto che la riduzione dei costi passa sia attraverso una riduzione del prezzo, ma anche a un consumare meno. Quello che stiamo facendo come cooperative è quello di insegnare, consumare meno, facendo odito energetico, cioè cercando di far capire qual è l'iniziativa che ti permette di tornare magari ai costi precedenti di energia senza ridurre il prezzo, che non è così semplice, ma ridurre il consumo. Quindi cooperative, oltre che chiedere, sta anche dando alle imprese e alle famiglie del nostro territorio. Ecco, poi c'è il tema della democrazia, direi di arrivare a quest'altra grande parola che sarà poi cardine dell'intervento del professor Zamagni. Sappiamo che la cooperazione si percepisce fin dagli albori, lo dicevo prima, come quella forma di impresa che è il compito di portare il metodo democratico dentro il mercato, che si dà un metodo democratico per governarsi, per amministrarsi, allora che contributo può dare oggi la cooperazione al rilancio della democrazia, contro la crisi della democrazia di cui il Pandora Festival vuole parlare quest'anno? La cooperazione ha una caratteristica che io credo sia nota, che è banale dirlo, ma è un voto a testa. Questa è vera democrazia. Qui significa che non c'entra più il capitale, che non decide il capitale, come purtroppo sta avvenendo in troppe occasioni, in troppe situazioni nazionali e internazionali, ma decidono le persone. Questa è una caratteristica che noi dobbiamo portare ad esempio. Credo che sia forte il bisogno di tornare a mettere al centro le persone e i loro bisogni nella nostra comunità, nel nostro Paese in generale. A me piace ricordare che le cooperative sono nate per questo, quindi ancora oggi hanno un valore ancora probabilmente maggiore di quello che noi avevamo percepito prima, quando un po' di anni fa sembrava che la cooperativa fosse un soggetto giuridico anche antico, vecchio, che non servisse più, mentre invece ci stiamo rendendo conto che il valore della cooperazione, della cooperativa in quanto soggetto proprio giuridico è oggi straordinariamente importante. Mi piace ricordare che stamattina ero qui a fare una conferenza stampa in Comune dove si parlava di rigenerazione urbana. A Bologna non c'è un progetto di rigenerazione urbana, cioè di restituzione alla città di un territorio, di un edificio rigenerato, riportato alla città con interventi innovativi magari rivolte ai giovani, dove non sia presente una cooperativa. Non ce n'è uno, tutti li fanno le cooperative. Questo perché? Perché la cooperativa da lavoro non ha bisogno di distribuire utili, perché sono tutte attività che in termini di risorse economiche ne richiedono, ma non hanno ritorni particolarmente significativi. Quindi questa è in qualche modo anche una vita diversa che la cooperazione propone ai propri associati, ma alle comunità intera, perché a Bologna dei centri generati, ne potrei citare qualcuno se non voglio fare pubblicità a qualcuno in particolare, ma sono tutte gestite cooperative. quindi la relazione interpersonale vive meglio, si cresce in questo modo e la nostra presenza è assolutamente determinante in questi casi. Ecco, proprio sul tema della democrazia, del suo rilancio, Concooperative Bologna ha insistito molto e lo sta facendo con continuità da qualche tempo a questa parte per l'integrazione nel paradigma di relazioni tra società civile e amministrazione, comune, città metropolitana verso forme rinnovate di parternariato pubblico privato, così rinnovate che vanno oltre il binomio pubblico privato, guardano al terzo settore, onde convocare davvero tutti per una partecipazione della società civile che sia davvero efficace nella gestione della cosa pubblica. Allora di che cosa si tratta e quali sono le prospettive a riguardo? Beh, mi piace qua ricordare che il Cogge del terzo settore, se non ricordo male, l'articolo 55, se non ricordo male, prevede espressamente la possibilità che le istituzioni si relazionano con la società civile per pianificare gli interventi sulle comunità. Quindi la coprogrammazione che non è lasciata soltanto all'ente pubblico ma che richiede l'intervento del privato, delle cooperative in particolari e perché questo lo prevede il Cogge del terzo settore? Perché viene riconosciuto a chi opera sul territorio una conoscenza delle priorità maggiore di chi governa. Questo corre dirlo, non lo dico io, lo dice il Cogge del terzo settore, quindi ha elevato anche la responsabilità degli enti del terzo settore nella coprogrammazione degli interventi nelle comunità. Questo noi lo stiamo chiedendo molto forte, ammetto che il Comune di Bologna ha avuto una intuizione secondo me molto positiva, quella di individuare una delega alla sussidiarietà che nell'aspettativa andava in quella direzione. Io sono abbastanza franco in questo, devo dire che ancora non abbiamo visto la realizzazione concreta di questa delega. Io mi auguro che ci sia la possibilità che venga portata a compimento perché Bologna potrebbe essere anche la fucina di esempio per tutto il resto del nostro Paese. A questo proposito mi piace anche ricordare che le attività che sviluppano le cooperative anche in questo settore proprio di copianificazione e coprogrammazione mirano a portare alle generazioni future il bene che costruiscono. Noi non a caso siamo considerate aziende intergenerazionali perché non vengono distribuite utili, non vengono distribuite cose ai soci ma vengono portate alle generazioni future. Quindi l'esigenza di pianificare, programmare assieme alla cooperazione ma nel caso specifico anche agli enti del terzo settore secondo me è basilare non solo per l'oggi ma anche per il domani. Ecco hai citato il codice del terzo settore ed è certamente parte questo articolo 55 che parla di coprogettazione e coprogrammazione anche della piattaforma di dialogo tra le cooperative alleanze delle cooperative e il comune e la città metropolitana di Bologna ma qui pesa la parola terzo settore insomma sembra che su molti fronti la cooperazione del terzo settore sempre più guardino nella stessa direzione, sempre più si giochi nella stessa squadra. Ti chiedo se è così anche oltre le cooperative sociali che fanno a pieno titolo parte del terzo settore. Beh questo è un tema decisamente delicato nel senso che enti del terzo settore e cooperativi hanno certamente gli stessi valori, certamente, però la responsabilità che hanno le cooperative rispetto al tema del lavoro è diverso, questo occorre sottolineato, la cooperazione da lavoro, la cooperazione sottostà a regole amministrative, contabili, fiscali diverse, quindi vuol dire pur riconoscendo il valore straordinario agli enti del terzo settore senza i quali probabilmente il nostro paese, la nostra città non avrebbe una vita così decorose come noi abbiamo e io credo che vada fatta comunque la differenza sostanziale tra chi oltre ad avere, ripeto, lo stesso sentimento, gli stessi valori opera in modo volontario magari facendo altre attività che invece lo fa in modo strutturato, esclusivamente rivolto a quel tipo di iniziativa. Dunque, io direi che il nostro tempo va terminando, per cui abbiamo un trilemma da affrontare, quindi nemmeno un semplice dilemma, la parola la lasciamo volentieri su questo al professor Stefano Zamagni, grazie ancora. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. Buonasera a tutti, grazie molto per l'invito che ho colto con piacere. Parlare di questi tempi di democrazia è quasi un portare i vasi a Samo, tanto è questo argomento trattato o maltrattato a seconda dei punti di vista. Entro subito nel merito e prendo le mosse da questa considerazione. Quali sono le res nove? Di che caratterizzano questa nostra epoca? Un'epoca che è stata indicata come seconda grande trasformazione, di tipo polagnano. La prima grande trasformazione fu quella che Karl Polany, famoso antropologo economista, descrisse nel suo libro magistrale del 1944, intitolato La Grande Trasformazione. E in quel libro Polany descrive da par suo come la prima rivoluzione industriale, fine Settecento in Inghilterra e poi la seconda, avevano trasformato la società del tempo. Oggi viviamo una seconda grande trasformazione, di questo dobbiamo essere resi edotti. Quindi non viviamo un tempo normale, come si suol dire, o ordinario, ma viviamo un tempo straordinario. E questo ha un'implicazione, che le categorie di pensiero con le quali si leggeva la realtà in precedenza che oggi sono diventate obsolete, non sbagliate, ma obsolete, vecchie, non più capaci di aggredire la realtà. E questo spiega non pochi delle difficoltà anche a livello di dialogo pubblico. Allora, quali sono le res nove che più e meglio di ogni altro caratterizzano questa seconda grande trasformazione? La prima è la fine della iperglobalizzazione, una fine che è iniziata con la grande crisi finanziaria del 2008, poi proseguita l'evento pandemico e infine con la guerra tutt'ora in corso tra Russia e Ucraina, eccetera. Ho detto iperglobalizzazione, perché la globalizzazione, come sapete, ha una data di inizio, novembre 1975, quando nel castello di Rambouillet, vicino a Parigi, si tenne il primo G6. E l'Italia faceva parte allora dei sei paesi più avanzati, Stati Uniti, Canada, Inghilterra, Francia, Germania e Italia. E in quella riunione i capi di Stato e di Governo, partecipando al G6, hanno preso la storica decisione di avviare quel processo che di lì a poco sarebbe stato chiamato globalizzazione. Noto che la parola globalizzazione viene coniata nel 1983, prima non esisteva, e ad opera di un giornalista economista americano, tutt'ora vivente, che si chiama Theodore Levitt. Voi direte perché questa sottolineatura? Perché troppi equivoci e troppe anche piccole menzogne vengono diffuse, facendo credere alla gente che la globalizzazione c'era anche prima. E purtroppo errori di questo tipo lo fanno soprattutto gli economisti. Io spero che lo facciano in buona fede, perché bisogna sempre concedere. Però il male che fanno è notevole, perché la globalizzazione è diversa sia dalla mondializzazione, sia dalla internazionalizzazione delle relazioni economiche. E qual è la differenza? Che mentre prima oggetto delle transazioni internazionali erano gli output, cioè le merci, i beni, i servizi prodotti, con la globalizzazione oggetto di transazione tutto, sia gli output, come prima, ma gli input. In particolare si crea il mercato globale del lavoro, è il mercato globale dei capitali, terzo il mercato degli organi umani. Voi sapete che il mercato degli organi umani oggi movimenta un volume d'affari che supera in valore il movimento delle droghe. E voi sapete che ci sono cliniche, e sappiamo anche dove sono geograficamente, non in Italia. C'è in Italia all'inizio, poi dopo è stata smantellata, dove vengono effettuati i trapianti. Si prendono i bambini, li si mandano a morire, perché gli organi dei bambini hanno un valore molto elevato, il cuore, i reni, il fegato, eccetera, e vengono trapiantati. E nessuno può dire niente, perché questo è ammesso. Perché l'argomento è, se i tutori o i genitori del bambino accettano di cedere il bambino in cambio di soldi, perché da quel bambino vengano espiantati gli organi, nessuno può dire. A condizione che quei genitori non siano stati costretti. E voi capite subito le implicazioni. Provate ad andare sul confine tra l'India e il Pakistan, è pieno di queste cliniche, eccetera. Quindi ecco il primo punto. La globalizzazione rende oggetto di transazioni internazionali tutto. Diritti umani fondamentali, gli input e gli output, eccetera. Ora, nei primi 10-15 anni, sostanzialmente fino alla metà degli anni 90, la globalizzazione ha avuto, come dire, risentiva ancora delle normative precedenti. Dopodiché parte per la transazione. E diventa iperglobalizzazione, che è quella appunto che oggi è giunta al termine, la prima scossa è stata la crisi finanziaria del 2008. Ad aver tempo si potrebbero illustrare tanti esempi. Ne cito solo una. Un famoso discorso di Clinton, Clinton, presidente americano democratico, che di fronte, dopo avere nel 99, nel 1999, abrogato la legge Glass-Steagall, che era la legge che era stata fatta da Roosevelt dopo la crisi del 29 e che serviva a tenere separati i movimenti dei capitali speculativi dai movimenti di capitali reali, cioè quelli che finanziano l'attività economica, dopo averla abrogata, alla domanda, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Testuali parole, lui dice, la globalizzazione è oggi una realtà immutabile e inarrestabile. Come dire? Si deve prendere la situazione com'è. Quindi capite da soli le implicazioni. La più importante della quale è che, è chiaro, una iperglobalizzazione non va a braccetto con la diversità delle istituzioni nazionali. Istituzioni sono le regole del gioco, istituzioni sia economiche, sia finanziarie, sia politiche, eccetera. E da lì che è iniziato quel fenomeno che va sotto il nome di unilateralismo, di cui tanto si parla in questi tempi quando si invoca il multilateralismo. Però non è che l'unilateralismo è venuto così, è la conseguenza di quel processo di iperglobalizzazione di cui ho fatto parola. ovviamente adesso il problema che è di fronte a tutti, studiosi o meno, è cosa ne sarà. E qui ci sono due, tra virgolette, partiti, partiti in senso metaforico. Da una parte coloro i quali dicono basta con questa storia, torniamo al sovranismo economico. E il sovranismo economico poi porta con sé il sovranismo politico. L'altro partito è quello di coloro i quali dicono prendiamo atto della fine della iperglobalizzazione e puntiamo ad una riglobalizzazione, cioè una globalizzazione fondata su altre regole, altre regole del gioco e su altri principi. Il dibattito oggi è aperto più che mai anche nel nostro Paese. E vedrete che nei prossimi mesi, una volta formato il governo, questi temi torneranno alla ribalta. Perché ovviamente tutte le posizioni vanno rispettate, che sia ben chiaro, però rispettare non vuol dire non indicare le conseguenze che possono derivare dalla scelta dell'una o dell'altra strategia. Questa è la prima, direi, res nova, importante che caratterizza il nostro attivo. La seconda ha a che vedere con un'altra novità, il disallineamento tra mercato e democrazia. Voi sapete che mercato e democrazia sono realtà, oltre che concetti, tipicamente occidentali, del mondo occidentale, europeo soprattutto, ma anche americano. E da sempre, da quando è nata l'economia di mercato di tipo capitalistico, è sempre stato chiaro che un'economia di mercato può continuare a lungo soltanto se viene, come dire, controbilanciata dalla democrazia. La novità di oggi è il disallineamento, il disaccoppiamento. Noi possiamo avere paesi che hanno un'economia di mercato anche molto spinta e molto avanzata, ma non hanno la democrazia. Qual è l'esempio? Che tutti sanno, la Cina. In parte l'India e altri paesi di minore dimensione. Questo pone un problema. perché l'intelligenza, una parte dell'intelligenza cinese dice vedete voi occidentali andrete a scomparire perché voi pretendete di tenere assieme mercato e democrazia. Dovete sapere che questo è impossibile. Loro parlano non ancora di trilemma ma di dilemma. Dovete scegliere. Noi cinesi abbiamo scelto il mercato e infatti l'espansione sotto gli occhi di tutti della Cina sapete quanto il PIL cinese contribuisce sul PIL mondiale. La Cina da sola fa il 20% di tutto il PIL mondiale cosa che non si era mai vista. Trent'anni fa contribuiva col 3% e via discorrendo. E quindi non solo ma ci dicono questi paesi soprattutto i cosiddetti valori asiatici che per avere un'economia di mercato fiorente non c'è bisogno della democrazia e democrazia cosa vuol dire rispetto dei diritti di dignità eccetera eccetera e così quindi oggi il problema che è di fronte a tutti osservatori o meno è è possibile andare avanti così quale può essere l'esito fra 10 15 20 anni di situazioni nelle quali questo disallineamento rimane è accettabile e questo a volte io mi meraviglio perché mi meraviglio perché non si parla mai di questo si parla si dice la Cina però bisogna capire che se uno attribuisce alla democrazia un valore non economico ma un valore di principio non può fare orecchie da mercante di fronte ad una situazione di questo tipo la terza grossa novità che caratterizza l'epoca attuale è quella che riguarda la nascita di una nuova tipologia di movimento questo è molto importante nel suo libro Karl Polany aveva descritto molto bene la nascita dopo la seconda guerra mondiale di due movimenti che lui ha chiamato il movimento fondato sul principio di libertà e il movimento fondato sul principio di giustizia sociale da cui la bipolarizzazione destra-sinistra in termini politici ancora oggi noi parliamo di destra-sinistra e dice questi evidentemente traggono origine dal fatto che ci sono persone o gruppi di persone che mettono in cima alla priorità il principio di libertà altri invece che mettono in cima le priorità politiche il principio di giustizia qual è la novità che prima fra tutte è stata evidenziata da una filosofa americana molto brava che si chiama Nancy Fraser scritto Fraser che a partire dall'inizio degli anni 80 un terzo movimento ha iniziato a produrre a manifestarsi ed è quello che Nancy Fraser ha chiamato i movimenti emancipatori chi sono i movimenti emancipatori quei movimenti che non chiedono più libertà o più giustizia ma che chiedono di essere riconosciti riconoscimento voi sapete Platone nel Fedro usa una parola molto importante timos timos in greco vuol dire riconoscimento questi movimenti vogliono essere riconosciuti attenzione non tollerati perché la tolleranza c'era anche prima ma vogliono essere riconosciuti nella loro specificità le prime forme di questi movimenti come sappiamo già a partire dagli anni 60 movimenti femministi poi strada facendo si sono pensate ai movimenti ambientalisti movimenti dei diritti civili illegitimi i movimenti che portano avanti l'idea di forme di consumo alternativa a quelle visuali e così via ebbene questa novità sta ponendo problemi perché voi dove collocate questi movimenti sulla destra o sulla sinistra è impossibile perché ripeto questi chi si riconosce in questi movimenti non chiede più libertà d'azione di un tipo o più giustizia ma chiede di essere riconosciuti e questo ci aiuta a capire anche le vicende di casa nostra ma non solo anche quelle americane come mai certi spostamenti da un fronte all'altro se noi continuiamo a usare la vecchia distinzione destra e sinistra non riusciamo a dare conto perché voi vedete che gruppi di elettori in un certo momento si collocano e votano per partiti di sinistra chiamiamoli così e la volta dopo votano per partiti di destra e questo da cosa dipende dipende dalle rassicurazioni che hanno ottenuto circa il loro riconoscimento eccetera pensate al fenomeno Greta della ragazzina in movimenti ambientalisti ad un livello molto più limitato e locale il fenomeno bolognese delle sardine e così via ecco allora questa terza novità che non c'era nelle epoche precedenti complica notevolmente la situazione sul fronte della politica democratica ed è in questo contesto che si può parlare di un trilemma politico immaginate un triangolo così ai cui vertici mettete a un vertice la globalizzazione cioè aumentare il tasso di globalizzazione quello che viene chiamato il globalismo ad un altro vertice mettete la conservazione delle identità nazionali dove identità fa riferimento alle tradizioni alle matrici culturali a volte le opzioni religiose e così via tipiche di quella certa nazione e nel terzo vertice mettete appunto la democrazia ebbene il trilemma politico significa questo che è impossibile con le strumentazioni e con il pensiero che finora abbiamo ereditato dal passato è impossibile mettere assieme questi tre obiettivi e allora voi vedete ci sono paesi che puntano a tenere assieme globalizzazione e democrazia rinunciando all'identità non totalmente ma riducendo completamente l'attenzione alle identità nazionali chi è il paese che per antonomasia si muove su questo gli Stati Uniti che parlano appunto di un global federalismo di un federalismo globale dicono i centri di ricerca in popolito americani è finita l'epoca in cui bisogna mantenere le identità nazionali perché queste sono cause di o di guerra o di conflitti vari e così via pensate all'altro lato perché il triangolo ha tre lati coloro i quali puntano a tenere la globalizzazione e a conservare le identità nazionali a scapito della democrazia e questi sono i paesi che citavo prima la Cina e quello che vengono chiamato nel gergo dei giornalisti americani il golden strait jacket come dire la camicia di forza adorata ti garantisco un miglioramento delle condizioni di benessere materiale però non chiedere tu cittadino il riconoscimento dei tuoi diritti democratici eccetera infine il terzo lato del triangolo rappresenta la posizione di coloro i quali appunto vogliono mantenere le identità nazionali e la democrazia a costo di ridurre il tasso di globalizzazione chi si riconosce ovviamente con le dovute varianti in questa posizione sono è l'Unione Europea che però non riesce per incapacità varie a farla valere questa sua posizione sui tavoli internazionali dove si prendono le grosse decisioni se voi adesso ci pensate buona parte delle discussioni al seguito ma c'erano anche prima soprattutto ora al seguito della guerra e in comprensioni varie prendono punto da vedere e quando la Russia ti dice noi non rinunceremo mai costi quel che costi alla nostra identità che in quel caso è un'identità non solo culturale ma è soprattutto religiosa voi capite che quando si si trova di fronte a questo non puoi ragionare applicando i canoni della razionalità che valgono per un paese come gli Stati Uniti e in parte per l'Inghilterra e guardate che questo ha radici molto profonde non c'entra solo con Putin ho trovato in questo studio che ho dovuto fare per varie ragioni nell'Ottocento Dostoevsky un gigante della letteratura mondiale in un suo scritto scrive c'è un solo paese al mondo che può mantenere viva la tradizione del cristianesimo questo paese è la Russia Dostoevsky 1800 quindi non c'erano e potrei continuare con altre citazioni di persone al di sopra di ogni sospetto che pensano che il destino di quella nazione la Russia sia quello di eccetera eccetera il resto viene in subordine e quindi si è disposti a pagare prezzi di varia natura a Puglia ecco allora a questo punto la domanda che si pone ci si può porre come mai perché è così difficile qualcuno dice impossibile sciogliere il trilemma perché non si può andare avanti con i trilemmi già sciogliere i dilemmi è difficile pensate al dilemma del prigioniero perché ha studiato un po' di teoria dei giochi e già è difficile immaginatevi voi un trilemma perché se noi non troviamo il modo di far stare assieme in maniera armonizzante i tre principi globalizzazione che vuol dire continuare sulla via della crescita del progresso eccetera eccetera identità nazionali e democrazia è ovvio che dobbiamo aspettarci adesso c'è questa guerra fra un po' ne succederà qualcosa d'altro state pur certi perché chi ha un po' di conoscenza storica e di acume teoretico sa che le situazioni trilemmatiche non durano nel tempo quelle dilemmatiche possono anche in passato abbiamo visto e allora la risposta che do è che fino ad ora noi ci siamo intestarditi noi soprattutto occidentali col mantenere un modello di democrazia che è quello elitistico competitivo il modello elitistico competitivo di cui però nessuno vuol parlare soprattutto i nostri politici guai allora perché scoprirebbero il loro il modello elitistico competitivo viene avanzato all'inizio del secolo scorso da Max Weber grande Max Weber e da Joseph Schumpeter grande economista di Vienna poi naturalizzato americano si era trasferito ad Harvard eccetera ed è Joseph Schumpeter uno dei grandi qual è l'idea base del modello elitistico competitivo quello di pensare alla democrazia tenete conto il contesto storico Max Weber scrive queste cose all'inizio del novecento pensate cosa era successo prima quindi da un certo punto di vista vedeva una realtà pensate alla Repubblica di Weimar eccetera lui era tedesco dice la democrazia è una procedura testuale procedura con la quale si devono scegliere le elite ecco perché si chiama elitistico competitivo cioè coloro i quali hanno maggiori capacità di governo di essere efficienti nella gestione del potere per realizzare questo obiettivo bisogna che dentro lagone politico soffi quel vento che è il vento della competizione cioè bisogna mettere in competizione tra loro i partiti in modo tale che attraverso la competizione si eviti una centralizzazione di potere cioè qual è l'unico modo per evitare le autocrasie quello di mettere tenere alta la competizione tra partiti da cui il termine elitistico competitivo però la competizione viene svolta dall'elite cioè dire da quelli che Platone chiamava gli aristocratici che vuol dire i migliori ecc quindi la procedura seleziona i migliori questi migliori ovviamente competono fra di loro e l'analogia che esprimerà il Schumpeter economista Max Weber non era economista sociologo antropologo e in parte filosofo il Schumpeter è questa come nell'arena del mercato le imprese competono fra di loro per ottenere i più alti profitti e per evitare la formazione di grumi di monopolio e di oligopolio alla stessa maniera nell'arena politica i partiti devono competere fra di loro per evitare appunto forme varie di autocracia guardate che questa analogia è perfetta Schumpeter l'intelligente il fatto è che questo questo modello è entrato poi nella prassi e il guaio è che nessuno se ne rende conto e quindi quando noi denunciamo le cose che non vanno e quotidianamente le leggiamo non riusciamo a capire che all'origine c'è esattamente l'implicazione più importante è quella che nella letteratura inglese viene chiamata negative politics che vuol dire la politica in negativo cioè i partiti devono ottenere il consenso parlando male degli altri cioè attaccando gli altri partiti la vicenda recente delle nostre lezioni è anche altrove così ma questo non è perché lo vuole Tizio Caio perché è il modello che lo esige perché io posso ripeto massimizzare il consenso quindi dei voti ricevuti soltanto se metto alla berlina o denuncio gli errori oppure le malefatte a seconda dei casi dei miei competitor come appunto succede aveva scritto Schumpeter nell'arena del mercato secondo questo modello ovviamente ha fatto perdere di mira che la democrazia non è una procedura perché la democrazia è un valore fondamentale perché la democrazia nasce in Grecia Aristotele prima di lui Socrate eccetera e andiamo a leggere cosa scrive nella politica il titolo del libro di Aristotele dice la democrazia è un valore fondamentale che esprime il desiderio e la necessità degli uomini che vivono in società di realizzare un mutuo vantaggio nel momento in cui la democrazia diventa una procedura di calcolo voi capite che la snaturate ecco qual è la crisi della democrazia oggi che la democrazia tant'è vero guardate anche le leggi elettorali la legge è ad esempio maggioritaria è un obbrobio se fosse vivo Aristotele a chi propone il maggioritario verrebbe messo alla verdina perché cosa vuol dire il maggioritario che tu usi la legge elettorale per dare più potere a quello che ha un po' di voti in più rispetto all'altro alla faccia del principio democratico che è tutt'altro cioè dire la democrazia non è un metodo di governo perché se fosse un metodo di governo è molto più efficiente la dittatura il dittatore illuminato e qualche volta per un certo periodo di tempo i dittatori illuminati ci sono stati riescono a realizzare molto di più però non è la stessa cosa della democrazia ecco allora perché quando uno capisce questo comprende che è necessario cambiare il modello di democrazia voi direte ma c'è un altro chiaro che c'è è il modello della democrazia deliberativa in inglese deliberativa e qui c'è una caratteristica solo solo italiana in Italia è vietato in pubblico di parlare di democrazia deliberativa se voi non credete a me conoscerete un po' di politici locali o nazionali chiedetevi tu cosa pensi della democrazia deliberativa vi dico io la risposta alcuni diranno mai sentito nominale e quelli sono gli ignoranti che sono sempre stati ma altri vi diranno che sanno che cos'è vi diranno sì sì io so che cos'è però gli italiani non sono pronti ad attuare questo modello e quindi dobbiamo andare avanti con l'altro modello vi direte voi la democrazia deliberativa se voi digitate in google da sera o domani del liberty democracy vi viene una stampata lungo a un chilometro di libri articoli convegni di tutti i tipi se volete alcuni nomi Habermas filosofo tedesco è uno dei più estrenui difensori della democrazia deliberativa così come l'americano Fiskin politologo che ovviamente non vi avrò mai citato o il francese Manin Daniel Manin mai citato cioè c'è in Italia e io ancora personalmente ammetto la mia ignoranza non sono riuscito a capire quest'offende non recevoir nei confronti della democrazia deliberativa è come se si avesse paura ma dico ma paura di cosa ma almeno discutiamo quali sono voi direte i principi base di questo modello che primo che la democrazia deve attuare i due principi che fondano del principio democratico e cioè che coloro i quali hanno compiti di governo ai diversi livelli o nazionali o locali sono tenuti a dare conto ai cittadini delle loro scelte ma dare conto non vuol dire informare dare conto vuol dire indicare la sequenza delle conseguenze che non solo di breve ma di medio e lungo termine che derivano dalle loro decisioni cioè dire se io sono il ministro tal dei tali e faccio e porto avanti un certo progetto non basta che io informi i cittadini i quali non essendo esperti perché nessuno è tenuto ad essere aspetto non è in grado di esprimere un giudizio di merito devo dire guardate io prendo vogliamo fare un esempio io taglio le tasse chiaro allora tagliando le tasse di tot il risultato sarà che il gettito fiscale diminuirà di tot miliardi diminuendo il gettito fiscale di tot miliardi l'ulteriore conseguenza sarà che verranno tagliati i fondi pubblici alla scuola perché in Italia è sempre così si taglia sempre dalla scuola e la sanità e altro eccetera se tagliamo i fondi alla sanità vuol dire che riduciamo i posti letto i medici eccetera quindi il tasso di morbilità se non addirittura il tasso di mortalità aumenterà di tanto allora se uno dice questo io cittadino che non sono necessariamente medico però capisco e loro potrei dire a me non va che tu tagli le tasse perché la serie di conseguenze che ne derivano produrrebbero in capo me o ad altri dei danni di gran lunga superiore questo è un esempio semplicissimo però che si fa capire quindi nella democrazia deliberativa tu sei stato eletto è chiaro che gestisce il potere ma devi dare conto in inglese si dice accountability devi essere accountable di quel che fai e dare conto questo vuol dire non informare come in maniera ipocrita si continua a dire ma indicare la sequenza degli effetti a breve a medio e a lungo termine non basta dire nei prossimi due anni succederà questo perché è chiaro che se voi abbassate la tasse non c'è bisogno di essere economisti per capire che immediatamente l'attività economica ha un vantaggio però tutti si dimenticano di dire quello che succederà di lì a poco dopo i primi due o tre anni e così via il secondo principio del metodo deliberativo del modello deliberativo è che la democrazia deliberativa è orientata alla ricerca della verità concreta della verità storica quindi la democrazia deliberativa attua la positive politics cioè la politica in positiva io mi presento agli elettori non dicendo male dei miei rivali ma dicendo quello che io intendo fare e chiedo il consenso sulla bontà di cui riesco a convincere i miei elettori il che vuol dire che con il metodo deliberativo io devo ammettere ciascuna parte in causa che partecipa al gioco deliberativo deve ammettere abimis fin dall'inizio la possibilità di mutare le proprie opinioni alla luce delle ragioni adotte dagli altri dalle altre parti e capite che questo fa una bella differenza perché siccome la verità storica in tasca non ce l'ha nessuno allora io porto le mie ragioni alla tua attenzione ragioni che tu sei in grado di capire e viceversa tu farai altrettanto e attraverso il confronto dialogico delle diverse posizioni in generale le persone di buon senso se non sono estremamente malvace arrivano a trovare un consenso questo è il che vuol dire che il metodo deliberativo non accetta la posizione di chi in nome della ideologia o di interessi di parte si dichiara impermeabile alle altrui ragioni allora voi cominciate a capire adesso perché nel nostro paese nessuno vuol parlare di democrazia deliberativa perché è chiaro che questo provocherebbe uno scorsone voi direte ma concretamente basta fare una leggina una leggina di mezza pagina o due pagine c'è una piccola devo fare un caveat otto anni fa la regione toscana ha approvato una legge regionale che ha istituito la democrazia deliberativa chiamata così e da allora nessun'altra ragione regione io avrei preferito che anche la mia regione l'avevo detto a qualcuno e a tanti ora dico perché la toscana certo se uno sa la storia della toscana capisce che nel genoma culturale dei toscani il modello deliberativo è dentro nel sangue conosciamo la storia insomma l'umanesimo il rinascimento secondo voi sono nati in toscana per puro caso ovviamente no però nonostante questo di fatto non è stata applicata quindi la legge c'è la potete andare a leggere allora io dico se l'ha fatta la toscana perché non la possono fare altre regioni vorrei che qualcuno rispondesse e se un gruppo di 5 o 6 regioni si mettessi in questa direzione a quel punto il parlamento sarebbe costretto a fare una legge per estendere il modello deliberativo a tutto il paese è così che avvengono le cose però non lo si vuol fare e non lo si vuol fare voi capite perché dopo quello che ho detto perché nel dibattito politico tu non puoi soltanto avanzare le richieste in chiave o ideologica o in difesa come ho ricordato interessi di parte devi argomentare e guardate che imparare a argomentare non è facile perché argomentare non vuol dire che io dico quel che voglio quel che penso ma io devo dare ragioni della validità del mio pensiero all'altro e l'altro farà altrettanto e così via ovviamente questo io sono certo che si arriverà altro non so direvi quanti anni ci vorrà ma non si può andare avanti così e lo scossone di queste ultime elezioni è il migliore esempio non si può andare avanti così perché vedete le disfunzionalità e le contraddizioni e il bello come si dice anzi il brutto deve ancora venire eccetera e quindi capite perché sarebbe bene che su questo si alzasse come si togliesse il velo dell'indifferentismo e dell'inonanza ma perché altrove queste cose vengono insegnate nelle università nei corsi di laurea di scienze politiche e da noi non si e da noi no io lo dico ai miei colleghi di quell'area lì dico siete degli irresponsabili perché vi riempite la bocca anche voi come gli altri voi però che avete una responsabilità dovete dire senza obbligare mai nessuno poi uno vi potrà dire che non gli piace benissimo però voi agli studenti dovete dirle queste cose perché altrimenti come si formano le mappe cognitive i modelli culturali se non se ne fa oggetto di riflessione ma soprattutto oggi è questa posizione esigita da un problema molto particolare di cui però non si parla mai e cioè il problema della comunanza etica nella società del pluralismo provate a pensarci comunanza traduce il greco koinotes koinotes vuol dire comunanza cioè nella società del pluralismo non ci può essere una matrice etica che prevale e si impone sulle altre non sarebbe pluralismo al tempo stesso però una società non può funzionare bene se non c'è una comunanza su valori fondamentali e soprattutto su fini fondamentali perché in assenza di questo resta solo il populismo il populismo è una conseguenza della mancanza di questo allora voi capite provate a rispondere come si fa ad arrivare ad una comunanza etica etica per significare sui principi i valori fondamentali in presenza di plurali nella società del pluralismo solo se noi applichiamo il modello della democrazia deliberativa possiamo avere nutrire una fondata speranza di arrivarci perché diversamente o si creeranno lotte intestine oppure si cade in quella forma di adiaforia etica che vuol dire indifferentismo non si parla più dei valori ma se io riduco la politica al calcolo degli interessi cosa me ne faccio allora c'è già l'economia c'è già il mercato che va dagli interessi capite la deformazione mentale se la politica ha un senso è perché si deve parlare e confrontarsi sui valori e sui principi base non sugli interessi perché per la difesa e il perseguimento degli interessi c'è già il mercato opportunamente ogliato nei suoi meccanismi e così via ho finito il mio tempo e quindi devo andare a concludere qualcuno dice ma questa è utopia no non è utopia perché un po' alla volta se teniamo gli occhi aperti si sta realizzando solo che si realizza ai livelli bassi e quindi ancora soprattutto perché in mass media da quando hanno scoperto le fake truth che sarebbero le pseudo verità molto più perniciose delle fake news perché le fake news non sono mica preoccupanti perché se io dico che questa cosa è di colore nero voi inizialmente ci credete poi mi dite guarda no è bianco cioè le fake news si autocorregono ma le fake truth no perché la verità pseudo non si dice falsa perché fake in inglese non vuol dire falso vuol dire pseudo la pseudo verità cambia il modo di pensare della gente perché se io ti faccio credere una cosa dopo un certo lasso di tempo e lì interviene la psicologia i psicologi lo capiscono tu ti convinci che ciò a cui hai creduto fino a quel momento è vero quindi la verità non è a priori oggettiva ma è a posteriori la verità è decisa dal numero più alto possibile di colori quali si riconoscono in una certa perché sono nati da un po' di anni a questa parte l'influenza quando mai nel passato c'erano l'influenza qual è il ruolo dell'influenza quello di veicolare le fake truth ecc e allora voi capite perché non può essere utopico pensare di arrivare ad un modello alternativo perché la gente un po' la volta sta aprendo gli occhi e si sta stufando e quando si sbatte il naso e quando ci si avvicina ad una forma di pandemia da depressione molto peggiore di quella da covid che è in atto è in atto lo sapete che è in atto e ci sono tutti i segnali se uno volesse togliersi la soddisfazione vada a leggersi il libro di Angus Deaton Deaton premio Nobel dell'economia americana il suo libro in inglese è stato tradotto l'anno scorso in italiano per i tipi del mulino sapete che titolo ha dato a questo suo libro un premio Nobel dell'economia quindi ci siamo capiti morti per disperazione se lo prendete leggetelo a piccole dosi perché altrimenti potrebbe farvi male al cuore o allo stomaco perché racconta con la crudezza dei dati statistici oggettivi quello che sta avvenendo nel suo paese gli Stati Uniti da me quando voi leggete statistiche del tipo gli Stati Uniti sono il paese che ha il più alto tasso di suicidi al mondo il più alto tasso di consumo di psicofarmici e via discorrendo e lui dice oggi si muore cosa vuol dire disperazione vuol dire mancanza di speranza quando uno cessa di sperare che il futuro possa essere il migliore del presente capiamo poi le sindrome depressive di un tipo o dell'altro ecco perché io sono moderatamente ottimista perché so che la persona umana non vuole essere disperata perché la persona umana tende naturaliter alla felicità e quando uno si rende conto passa un giorno un mese o un anno che questo non si raggiunge allora è in grado di riservare in ogni caso se c'è un paese dove una modifica del principio democratico nella direzione che ho brevemente illustrato dovrebbe essere proprio l'Italia perché il nostro paese che ha le radici storiche di cui ben sappiamo ha anche una responsabilità nel confronto degli altri paesi perché come ho ricordato prima l'umanesimo l'abbiamo fatto noi l'abbiamo inventato noi il rinascimento l'abbiamo inventato noi e ora può dire qualcosa perché allora oggi non parliamo di un neo-umanesimo che riprenda quei valori e li inserisca in un contesto diverso io nutro la speranza che questo avvenga anche perché nelle fasi di grande trasformazione tra utopia e distopia è sempre meglio star dalla parte dell'utopia l'utopia non va bene ma se uno dovesse scegliere tra utopia e distopia il consiglio che do scegli l'utopia perché probabilmente ti farà cambiare idea però ti fa marciare e far partire un certo processo grazie per l'attenzione adesso come mi è stato detto se volete star qui io sono disponibile a rispondere a domande grazie per l'attenzione grazie grazie grazie